Ebbene, sì, durante questo Porto Cervo Wine Festival con Starwood abbiamo voluto creare una bella partnership tra noi, Wine Amore, società che sviluppa un prodotto per iPad per presentare i vini e Starwood per l'evento, per presentare la carta dei vini dell'evento. Abbiamo quindi creato un'applicazione personalizzata dove sono presenti tutti i vini presenti oggi alla presentazione qui a Porto Cervo. È un'applicazione, come si vede, per iPad dove è possibile analizzare i vini presenti oggi, leggere le caratteristiche, vedere le immagini delle bottiglie, leggere la storia dei prodotti, il tutto in modo interattivo e anche in diverse lingue. Quindi Starwood fa vedere che guarda al futuro e guarda le nuove tecnologie e alle applicazioni che le nuove tecnologie possono dare anche per fare cultura nel mondo del vino, cosa che il Porto Cervo Wine Festival fa. Ma questo degli eventi è solo un piccolo modo di applicare questa tecnologia che abbiamo sviluppato. In realtà Wine Amore ha proprio sviluppato una piattaforma per portare al tavolo dei clienti, dei ristoranti, la carta dei vini. Quindi non si porta più il libro di pelle da sfogliare, difficile a tenere aggiornato per il ristoratore quando cambiano i prezzi, quando finiscono le bottiglie, dove ci sono poche informazioni sui vini, ma portare al tavolo un iPad su cui il ristoratore avrà precaricato i vini presenti in cantina e dove il cliente finale al tavolo potrà scegliere in modo interattivo i vini, filtrare quanto c'è disponibile per bottiglia, leggere le informazioni sui vini, il tutto in diverse lingue. Quindi un grosso passo avanti come servizio al consumatore, come efficienza nella gestione della carta e della cantina. Allora Wine Amore è già sul mercato, qui in Sardegna è già presente, con un ristorante anche di fama, il ristorante Sacardiga su Schironi, vicino a Cagliari. Siamo presenti in Italia e all'estero, abbiamo clienti in Francia, Olanda, Canada dalla settimana scorsa e Brasile. E stiamo guardando anche ai paesi dell'est e ovviamente l'America. Siamo di sede in Italia, a Bergamo, ma abbiamo la base produttiva proprio in Sardegna, vicino a Cagliari, a Pula. Ci trovate sul web all'indirizzo www.wineamore.com. La nostra applicazione è presente sull'Apple Store per iPad, basta inserire Wine Amore ed è un'applicazione gratuita, la demo è gratuita ed è scaricabile da chiunque.